Scopriamo un nuovo tool che può aiutarvi a fare veramente la differenza nel vostro marketing. Si chiama chatopeneye.com ed è di fatto un'intelligenza artificiale in cui potete appunto chiedere di tutto e vi aiuterà nel vostro lavoro. Immaginatelo come un assistente personale. Io per esempio gli ho chiesto trovami 30 keywords per promuovere su Google un corso di Italia per adulti lui mi ha trovato appunto le 30 keywords e in più mi ha dato anche qualche suggerimento. Spero che queste parole chiave ti siano utili per promuovere il tuo corso di chitarra ma ricordati che per ottenere il massimo risultato e bla 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 bla. Si può chiedergli un po' di tutto. Potrei anche per esempio chiedergli da new chat scrivimi un articolo in ottica SEO di 300 parole sulla pesca della trota per esempio e lui come vedete comincia a scrivere il che è veramente interessante. Ai fini del video l'ho utilizzato tramite cellulare anche se io di solito lo utilizzo tramite computer. La cosa carina è che questo strumento è assolutamente gratuito in questo momento forse un giorno diventerà il pagamento ma intanto godiamocelo. attenzione è uno strumento automatico cioè lui appunto vi va a trovare quelle che magari sono le 30 keywords o scrivere già un articolo che è già presente sul web e lo va a scrivere. Quindi senza dubbio può essere un buon strumento per trovare nuove idee o per velocizzare il proprio lavoro? Assolutamente sì ma come tutte le automazioni non dimenticate poi va adattata al vostro business. Quindi poi il vostro scopo è studiare sempre il vostro mercato capire i vostri obiettivi di crescita trovare il vostro budget trovare una nicchia di mercato e utilizzare questo strumento insieme a tutti gli altri per riuscire ad avere un aiuto in più nella vostra attività. Comunque sì anche all'interno di copywriting devo dire che per esempio anche per scrivere articoli di blog e tutto il resto può essere davvero un'ottima base per blog, per contenuti e per quant'altro. Quindi assolutamente consigliato approfittate soprattutto adesso che è gratuito poi nel futuro si vedrà. Seguimi per altri consigli di marketing.